pace bene cari fratelli e sorelle bentrovati anzitutto auguri di ogni bene per questo nuovo anno che inizia ponendoci sotto il manto di maria che veneriamo con il titolo di madre di dio in lei infatti per opera dello spirito santo il verbo si è fatto carne dio ha preso la nostra umanità noi vogliamo affidarci a lei con rinnovato amore certi della sua materna intercessione e guardare a lei come modello di credente e dal vangelo vogliamo cogliere una sua attitudine fondamentale per seguire gesù e crescere umanamente e spiritualmente vediamo un po siamo a betlemme gesù è appena nato e vi sono con lui maria e giuseppe a un tratto ecco arrivare dei pastori che riconoscono in quel bambino il salvatore e narrano quanto era loro accaduto a cominciare dalla visione dell'angelo tutti furono presi da stupore ma luca ci dice che nel frattempo maria custodiva queste cose meditandole nel suo cuore ora a un livello più immediato cosa ci viene in mente che maria era una donna riflessiva ed è vero e qui abbiamo un primo punto importante se vogliamo crescere è importante curare la vita interiore attenti noi a volte confondiamo due termini vita interiore e vita spirituale la vita interiore è il contatto con se stessi la vita spirituale è vivere in relazione con dio guidati dal suo santo spirito le due si avvicinano molto perché chiaramente il primo luogo di una relazione seria e profonda con dio è la nostra interiorità qui stiamo partendo dalla cura della vita interiore cioè aver contatto con noi stessi vedete noi rischiamo di fare tante cose di attaccare il cuore quelli di correre ma lasciare indietro la nostra anima di perdere di vista il senso per cui agiamo e soprattutto rimanendo degli estranei a noi stessi quante volte in sede di dialogo di accompagnamento spirituale capita di incontrare persone ignare dei motivi per cui stanno male poco abituate al contatto con se stesse perché ho agito in questo modo perché ho reagito così cosa sto cercando questo sentimento che coltivo dove mi porta questa relazione che vivo mi rende felice e sana o è malata dare un nome a ciò che ci abita dare un nome alle proprie paure ammettere le proprie difficoltà riconoscere i propri bisogni insomma riscoprire la propria interiorità è cammino indispensabile per crescere e per vivere un rapporto bello serio e profondo anche con dio a tal proposito sono molto belle le parole di un famoso autore spirituale michel quest che diceva così l'uomo che non è più padrone di se stesso si lascia andare passa davanti alla porta senza mai osare di entrare in casa sua se hai paura di fermarti e perché hai paura di incontrarti e se hai paura di incontrarti e perché non sei più in intimità con te stesso non ti conosci più temi tuoi rimproveri e le tue esigenze non hai tempo per sostare si leale vi sono sempre dei momenti di vuoto nelle tue attività non affrettarti a colmarli cercando il chiasso un giornale una conversazione una presenza quando puoi concederti un momento di silenzio non mettere subito una canzone fermati se ti fermi e per prendere coscienza di te riunire tutte le tue forze riordinarle e dirigerle al fine di impegnarti tutto intero nella tua vita non ti riconoscerai né ti comprenderai appieno se non nella luce di dio quando dai un appuntamento a te stesso tu dai contemporaneamente un appuntamento al signore nel corso delle tue giornate cogli le occasioni che la vita ti offre per riafferrarti e comunicare con dio non ammazzare il tempo per breve che sia è un dono della provvidenza il signore vi è presente ora miei cari la via dell'interiorità è il primo passo ma c'è di più luca ci dice che maria custodiva tutte queste cose meditandole nel suo cuore abbiamo dei termini in greco molto importanti anzitutto maria custodiva queste cose cose è indicato con remata che si rifà al dabar ebraico che vuol dire sia parola sia avvenimento e poi traduciamo con custodiva un verbo composto siuntereo che vuol dire tenere insieme ecco appunto custodire nell'antico testamento in greco rende l'ebraico shamar un verbo usato per indicare l'attenzione amorosa alle parole del signore la custodia dell'alleanza con lui quindi maria custodiva nel suo cuore le parole di dio e gli avvenimenti significativi che viveva l'altro verbo è meditare in greco abbiamo il verbo si un ballo da cui simbolo che letteralmente significa mettere insieme soppesare valutare potremmo dire che significa mettere insieme i vari elementi o aspetti di una situazione alquanto enigmatica al fine di interpretarla di darne una retta spiegazione di farne l'esegesi potremmo dire ecco maria cerca di capire nella trama del reale il disegno che dio sta portando avanti cerca di cogliere il significato profondo degli avvenimenti alla luce della parola del signore abbiamo qui miei cari uno spaccato del cammino di fede di maria anche lei non aveva tutto e subito chiaro anche lei non poteva comprendere tutto il disegno di dio in un colpo solo ma si è fidata si è lasciata condurre passo dopo passo quanto è importante guardare a lei e imparare da lei aver fede significa poggiarsi sul signore fidarsi di lui lasciandosi condurre da lui anche quando non tutto è chiaro anche nei momenti in cui incontriamo difficoltà sapendo anche attendere lasciando che ogni cosa si sedimenti venga vagliata e si riveli nella sua vera portata avendo la sua parola come bussola i sacramenti come nutrimento la sua chiesa come sostegno e riferimento molto bello a tal proposito un esempio che faceva padre pio raccontava di quando era piccolino che giocava a terra e vedeva sua mamma che cuciva dal basso lui vedeva dei ricami ma non capiva bene cosa fossero allora chiedeva la mamma e la risposta era aspetta figlio mio e vedrai dopo un po' quando la mamma finiva il ricamo prendeva in braccio suo figlio e gli faceva vedere il bellissimo ricamo fatto ecco così è un po' con noi il buon dio lui è all'opera vuolintessere con ciascuno una storia d'amore bellissima ma ci chiesto anche di saper attendere perché non tutto è immediatamente chiaro spesso le cose si chiarificano passo dopo passo in pienezza quando saremo in cielo cari fratelli e sorelle anche noi siamo chiamati a generare cristo nella nostra vita a far sì che la sua parola si faccia carne in noi a compiere il suo disegno d'amore perciò dio che ci ha a cuore semina nella nostra storia tante mollichine di grazia passatemi l'espressione parole avvenimenti incontri cose che magari lì per lì non riusciamo a cogliere fino in fondo ma che si possono rivelare indicatori preziosissimi per realizzare la nostra vocazione la nostra missione ad esempio quanti genitori che hanno figli e figlie che poi magari si sono consacrati avevano ricevuto già dei segni quando loro erano piccoli quante persone nel tempo illuminate dalla grazia hanno colto dietro intuizioni che portavano nel cuore sin da piccoli parole che si sono incise nel cuore incontri particolari eventi belli o anche dolorosi una tappa una svolta una preparazione in vista di qualcosa di più grande ecco perché come diceva santa chiara è importante custodire le grazie ricevute e farne memoria sono come piccole luci disseminate qui e lì per condurci e rischiararci nei momenti di buio mi piace concludere con una immagine molto bella piccola sorella magdelen la fondatrice delle piccole sorelle di gesù della quale papa francesco ha avviato il processo di beatificazione faceva un sogno ricorrente che per pudore non aveva mai voluto enfatizzare lei stessa diceva che da diversi anni sogno come se la vedessi una nuova immagine della madonnina non una madonna che stringe teneramente fra le braccia il suo piccolo gesù ma che invece lo porge al mondo e il suo piccolo gesù ha solo qualche mese e ha volto in fasce e così sdraiato fra le sue mani maria lo porge con un gesto che dovrebbe essere così eloquente che tutti abbiano voglia di prenderlo e invitava gli artisti a rappresentarla proprio così felice di offrirlo nell'atto di tenderlo a tutti quelli che vorranno prenderglielo cari fratelli e sorelle tutta la vita di maria ha avuto un centro il signore gesù accoglierlo custodirne la parola gli avvenimenti e seguirlo fino in fondo perdonarlo agli altri che anche questo possa essere il centro della nostra vita per essere segno e strumento del suo amore che salva che il buon dio vi benedica pace e bene a tutti